Esatto, proprio da qui, è solo un club, ci saranno le ballerine, si Gianluca, proprio in questo momento al club di Anna, questo programma contenitore, anzi no, questa scatola magica, dove ci sono veramente tante tante sorprese, arte, musica, spettacolo, ci sarà un premio cascella dedicato a tutti i pittori, e poi l'angolo della musica classica napolitana e tanti tanti ospiti. Buona la prima! Ma no Gianluca, non adesso! E va bene, allora vi aspetto tutti, a partire da venerdì 13 gennaio 2012, sempre su Italia Mia 2, vi aspetto a club di Anna, mi raccomando, ciao! È solo un club! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!